Ben ritrovati al nostro spazio dedicato agli appuntamenti. Cominciamo con il segnalare per la serata di domenica 25 agosto un altro appuntamento per il ciclo per antiche contrade. A Locatello, in località Bustoseta, a partire dalle 21 andrà in scena Al mio caro Verdi con L'affetto di una volta, un concerto dove il soprano Giuseppina Colombi e la chitarra di Paolo Viscardi accompagneranno la voce narrante di Giorgio Appolonia. Per le iniziative legate alla festa patronale di Sant'Alessandro iniziamo invece ricordando che per tutto il giorno delle celebrazioni staranno aperti al pubblico il Museo Storico dell'Età Veneta, il Museo Storico di Bergamo, il Campanone, il Museo Donizettiano e anche Palazzo Frittoni. Gli eventi però inizieranno dal pomeriggio di domenica con un concerto di campane che dalle 15 e 30 coinvolgerà i campanili della città di Bergamo a partire dalle campane della Torre Civica, passando per quelle della Cattedrale di Sant'Alessandro fino ad arrivare a quelle della Basilica di Santa Maria Maggiore e molte altre ancora. Dalle 16 e 30 poi presso la chiesa di Sant'Alessandro della Croce in via Pignolo sarà proposta una rievocazione storica della passione di Sant'Alessandro configuranti in costume musici e popolani a dare una visione della storia del santo patrono di Bergamo che non tutti conoscono. Il gran finale di giornata sarà in Piazza Vecchia dalle 21 dove le autorità bergamasche, laiche e religiose saluteranno i cittadini. A seguire una festa gastronomica sotto il portico di Palazzo della Ragione con la torta di Sant'Alessandro uno spettacolo di musica, teatro e danza messo in scena dalla Compagnia delle Arti.